Marotta ha detto che mancano i valori per la fascia di Capitano. Ciao, benvenuto nel canale Inter News, se non vuoi perderti nulla di quello che succede in Nerazzurro, nuovi acquisti, rinforzi e tanto altro, allora iscriviti al canale e attiva la campanella, così sarai sempre avvisato quando ci saranno nuove notizie esce qui, e se sei un vero tifoso Nerazzurro, lascia il tuo like all'inizio del video, andiamo. Marotta ha dichiarato, nella fascia di Capitano ci sono valori come la simpatia e l'amore per il club che devono essere compresi da chi è negli USA. Se alcune persone non incarnano questi valori, non possono essere candidati a portarli. Lo ha detto Giuseppe Marotta nella presentazione del libro Sports Club 2030, riferendosi anche alla situazione dell'ictus del Capitano Nerazzurro dopo la storia Scudetto di Milan Skriniar. L'appartenenza e l'amore per la società, insieme a tutta una serie di altre situazioni, ha aggiunto Marotta, sono fondamentali per essere bravi capitani. Lei è ottimista sui rinnovi di bastoni e c'è la no-glue? Sempre, sempre. All'interno della fascia ci sono valori che devono essere compresi dal potenziale detentore della fascia. I giocatori che non comprendono questi valori non possono essere candidati. All'estero è tutto più semplice, la costruzione di uno stadio è considerata un elemento di carattere nazionale. Nel nostro caso però ci riferiamo al territorio e, quindi, dobbiamo affrontare un processo di analisi molto lento. Nel tempo, il che non ha portato a rendere tutto più fluido. Cosa ne pensi delle battute di Marotta? Sei d'accordo o in disaccordo con lui? Lasciate la vostra opinione nei commenti, lasciate il vostro mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. A più tardi tifosi nerazzurri.